Un vero e proprio kit di addestramento per i neogenitori della Campania con consigli e suggerimenti utili per le famiglie con bambini e bambine dentro e fuori la pancia di mamma. Stamani è stato presentato bootcamp presso la Sala Scozia dell'Azienda Ospedaleire Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. L'assessore alle pari opportunità della regione Campania Chiara Marciani ha consegnato i primi kit al reparto di ostetrici e ginecologia di Salerno accompagnata dal direttore generale del Ruggi Giuseppe Longo con l'intenzione di promuovere iniziative di sostegno e indicazioni di buone pratiche rivolte ai neogenitori per renderli sempre più consapevoli del loro ruolo per la salute dei figli e la promozione del loro benessere. Abbiamo voluto pensare alle mamme e papà in una fase delicata della loro vita che può essere la nascita di un bambino o di una bambina fornendo delle informazioni utili appunto dentro e fuori la pancia innanzitutto appunto nella fase delicata del parto e poi volendoli accompagnare con questo kit ma anche con una guida realizzata da società di pediatria quindi da esperti che può essere una sorta di vademecum per un primo consiglio da avere sul comodino a cui rivolgersi quindi per i piccoli problemi che possono sorgere nella gestione quotidiana di un figlio o di una figlia. Assieme al kit distribuita alle mamme e ai papà ha anche una guida pratica per genitori realizzata dalla società italiana pediatria preventiva e sociale, società italiana medicina perinatale, federazione italiana medici pediatri e associazione italiana genitori. Un altro tema a cui stiamo lavorando e che è anche molto importante è l'allattamento al seno. Parlavamo oggi anche dell'importanza di una corretta alimentazione per evitare l'obesità infantile. Partendo proprio dal latte materno che può essere utile abbiamo voluto inserire anche il tema della donazione del latte materno valorizzando quella che è la banca del latte che abbiamo in Regione Campania che può essere particolarmente importante ad esempio per i bambini prematuri. Le vecchie bali insomma. Esatto, in una chiave moderna e riorganizzata per non dimenticare poi la corretta alimentazione con le prime pappine, l'attenzione ai prodotti della nostra dieta mediterranea che è tanto importante e che invece può sostenere appunto anche i bambini per evitare quelli che sono problemi che purtroppo sono troppo diffusi anche nella nostra regione.